Uzi Uzi, ciao a tutti da Andaguzzi, benvenuti finalmente a gara 7, ci giochiamo la finale della East Conference, si gioca lo United Center di Chicago, fattore campo speriamo sia fondamentale. Chicago Bulls, come look at Chicago, it all comes down to this, a well fought series so far, but only one team will walk away the Torx. Well it's been a final series Kevin, let's see how much the home team plays into it tonight, the majority of time, in these cases, the deciding game is won by the home team. Yeah and this is as good as it gets, Steve, I am not kidding, I mean the biggest game of the NBA season so far, I can't wait to see how this thing unfolds. Non è riuscita questa finta. Grand giocato in picco e rombo, da staggianti con una cattiveria. Granne è giocato, Kain providers and that Pretty thriving with a ç scene. Porca miseria, è saltato in faccia a Garnett. Sbaglia, è tornato a dennagos. Grazie. Grazie a tutti. 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 Porca troia, più uno Chicago. Tensione, tensione, tensione. Si deve sbagliare nella squadra. Oh, dei 9 punti, 7 li ho fatti io. Vantaggio per Charlotte. No ragazzi, non esiste, cioè... Qui che mi è saltato addosso? No ragazzi, non esiste. più 5 a Charlotte, cazzo e vai finisce il primo quarto più 2 Charlotte cazzo panca per i Nuggets, rientra più 7 a Chicago cazzo 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 parca troia l'ha preso se rientrava cazzo 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 E adesso fa il punto Sharlo. Eccolo lì. Bravo Piero in difesa. Più 5 Chicago. Finisce il primo tempo. E dura, e dura, e dura, e dura. Cazzo di Sharlo sono veramente tosti. Signori, al prossimo video per il terzo e quarto quarto. Ciao a tutti da Nagucci. Ua!